L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è presente con il suo banchetto in Piazza Martiri. Questa è una cosa che abbiamo fatto per tutta Italia, che hanno le associazioni in vista di questo gazebo. La maggior parte le abbiamo fatte tutti quanti, perché ci hanno chiesto alla Presidenza di dire se volevamo farlo. E voi avete accolto l'invito? Esatto. Partecipa all'iniziativa all'Istituto di Popparozzi. In che maniera contribuisce attivamente? Noi insieme ai ragazzi stiamo cercando di sensibilizzare i cittadini terramani contro le bombe civili e contro le guerre, che ce ne sono tante attualmente nel mondo, cercando di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica proprio per vivere in un mondo più sereno e più in pace. La nostra Preside provvisiero ci ha dato questa possibilità di partecipare insieme al direttore dell'Associazione della Provincia di Termolo, il dottor Antonini, e abbiamo accettato volentieri questa iniziativa. Grazie. 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 Grazie.